ben trovati ben trovati amici di live social sempre qui a tenervi compagnia con nuove interviste nuove storie nuove realtà da farvi conoscere lorenzo a tenervi compagnia vi ricordo di seguirci su tutti i social attraverso l'hashtag interviste storie e sulla nostra pagina facebook dove troverete tutti i video delle nostre interviste apro la nostra rubrica dedicata al turismo e oggi ci spostiamo a piacenza abbiamo con noi il titolare di un'attività in una struttura in crescita ma fra lui a parlarcene gianluca motta del break hotel benvenuto benvenuto grazie parlaci un po di della della storia del di questo break hotel di questa un po che è una creatura quasi neonata possiamo dire nel 2018 a sostituzione di una struttura di una vecchia società si chiamava eco film group srl quindi ha cambiato completamente nome l'ha chiamato break hotel che sta a indicare come luogo di sosta ideale per le persone e lo sta rinnovando ancora ancora oggi allora quale ti chiederei quale ritieni essere il vostro punto di forza al fiore all'occhiello come si suol dire ecco il fiore all'occhiello di questo hotel è la il suo luogo perché è direttamente all'uscita dell'autostrada di ospedaletto lodigiano pesa al pusterlengo a circa 300 metri il luogo di sosta ideale insomma vediamola così certo poi insomma piacenza è una è una bella città che merita veramente di di essere visitata magari non non tra le più rinomate ma è veramente piena di gioiellini no confermo confermo che c'è una bellissima città per essere visitata da pietra cavalli a tutto il centro storico a tutte le pietre che si possono trovare quindi siamo molto vicini e quindi alla fine diciamo che siamo la base ideale per poter fare poi questi piccoli quali sono i vostri progetti futuri nostri progetti futuri sono di continuare nel riamodernamento di questa struttura quindi con camere sempre più adatte alla nuova tipologia di clientela ecco questa è una delle nostre cose poi ci stiamo rinnovando abbiamo camere con con barca idromassaggio suite che possono ospitare da una famiglia perfino con due figli perché hanno anche altre altri due letti oltre al classico letto matrimoniale abbiamo diverse situazioni abbiamo un ristorante interno che può soddisfare tutte le esigenze in tutti i gruppi il nostro punto di porta è che accogliamo molti gruppi che siano studenti che siano adulti che sono in viaggio e trovano il break hotel come luogo di sosta ideale come un vero e proprio break come recita il nome della tua esattamente è pensato è pensato proprio per esatto perché questo è il nostro punto di forza noi collaboriamo con molti tour operator che ci danno proprio questa bontà del fatto di saper accogliere le persone perché accogliere non è così semplice non è da tutti certo non è da tutti c'è uno studio dietro delle persone culturalmente preparate accogliamo siamo cat friendly quindi accogliamo nelle nostre camere anche gli animali quindi tutto è tutto ciò che una persona ha bisogno per trovare un piccolo luogo di relax allora e a me non rimane altro che elencare i vostri contatti per per poter dare agli ascoltatori gli estremi per potervi raggiungere il telefono è il 338 465 7191 pagina facebook break trattino hotel trattino motel sito web www.break hotel.it pagina instagram break hotel motel e l'indirizzo email è info chiocciola break hotel.it grazie gianluca per averci fatto scoprire questa realtà di piacenza in bocca al lupo grazie a voi di averci accolto live social torna tra poco con una nuova intervista rimanete con noi live social l'indirizzo